Musica Come avevamo promesso, questa è una società, una dirigenza che ha questa caratteristica, che mantiene sempre le promesse, mantiene quello che dice. Siamo una delle prime società di B già ad aver fatto un primo acquisto. È arrivato Perpetuini, un giovane primavera classe 90 della Lazio, è un lottatore, è un centrocampista di quelli che lavora per la squadra, quindi uno che sicuramente darà una grossa mano, ma devo sottolineare anche che è uno dei primavera più forti in Italia attualmente, per cui un bel colpo per il Crotone, è un ragazzo che io ho visto giocare, è un aggressivo, uno determinato, uno che va su tutti i palloni e credo che possa inserirsi molto bene in questo gruppo, poi sarà compito del mister, è il mister che gestisce i ragazzi. Speriamo che Perpetuini dia una mano al Crotone. L'intento mio, il mio primo obiettivo è quello comunque sia di inserirmi in un gruppo nuovo con il quale voglio fare molto bene. Arrivo con la massima umiltà, con la massima disponibilità nei confronti del mister, della società e voglio diventare un elemento utile alla causa per raggiungere così l'obiettivo che è quello della salvezza. Sono prettamente un centrocampista mediano davanti alla difesa, difensivo, e la mia dote più importante è sicuramente quella dell'interdizione. Ho parlato con Ettore perché lui è un mio vecchio amico, abbiamo fatto insieme 4-5 anni nelle giovanili e mi ha parlato molto bene della società, della squadra, della città, della gente, del rapporto con le persone. Spero di fare bene, di conquistare anche la città, la gente, la tifoseria che ho seguito, è molto calda, è molto attaccata alla maglia e sono quelle tifoserie che ti danno il 110% se tu però gli dimostri la fiducia.